allora amici siamo qui in un paese che si chiama casa pinta in pronuncia di biela che vi altera il savinò anche pieno di gente per esempio vedi un sur de casa pinta che deve camminare adesso le interviste allora vedi per esempio la gente casa pinta che è in pronuncia di biela un casa pintese un casa pinta allora parliamo un po del tuo paese sur de casa pinta allora perché qui almeno il mio paese a mezz'oretta anche un'altra raditante casa pinta no allora si insomma un cammino l'ho su ha insegnato la vita e noi siamo flessibili con la ruota che faccio adesso noi andiamo a vedere chi c'è e diciamo uno salendo casa pinta non riesco a parlare al patto che sia l'intruzione non è un abitante di casa pinta mi si è ridere a spiegare che casa pinta che è una nota di gente mi sono di casa pinta cittadinanza onoraria ma in realtà mi vivi ma tre persone sui quattrocenti ma leggiamo una bella percentuale dunque porco qua mi sono contento di parlare di casa pinta senti proprio il paese come la cauta che c'è il paese per la massa di gente che c'è mettiamo un botone qui fino al col e che la gamba un bel ruolo c'è il pulso adesso noi siamo in una a quel che la dovrà flessire noi sul Meraloche Daniel Wellington è la moda di casa pinta noi lo troviamo in casa pinta che le faccio più che i vestiti tradizionali di casa pinta e adesso andiamo a trovare un nostro amico perché noi siamo in casa pinta e dunque andiamo a trovare un nostro amico e allora mi raccomandi la murale è casa pinta città delle grandi opportunità no